Maestro, permetti una parola. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Giuda Iscariota. Sono un uomo colto, lavoro per lo Stato, leggo e scrivo l'ebraico, il latino, il greco, traduco documenti ufficiali. Questo paese ha ormai molte lingue. Ecco, io non ho mai battuto il rame, né lavorato il legno, né ho mai pescato come i tuoi uomini. Conosco i tuoi uomini. Mio padre era un ricchissimo costruttore e diceva, mio figlio non avrà mai dei calli alle mani, né polvere di calcina in testa e i miei beni faranno di mio figlio un uomo colto. Beh, ecco un uomo colto che vuole servirti. Ma sai che farne di un uomo come me? Si riconosce l'albero dai suoi frutti. Giuda Resta con noi Grazie 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 Grazie